Siamo secondo me in un periodo di completo sbandamento, causa e social, in questo momento storico, causa e social, di Polvia se ne parla tantissima, se ne fa tantissima, ne viene edita tantissima, 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 si fanno il sport, si fanno il reading, tutto questo però secondo me ha il discapito della qualità. Causa e social, causa e social, purtroppo siamo travolti, siamo travolti dai lavori che facciamo, dalle bolle più scadute, dai social, siamo travolti dai cambiamenti climatici, causa e social, causa e social, mettersi in prigione ognuno, fermarsi in questo senso, bisogna denunciarsi, autodenunciarsi, siamo delle mine infazzite e siamo anche delle mine antiguomole, causa e social, causa e social, in questo momento storico, causa e social, siamo travolti, causa e social, causa e social, siamo delle mine infazzite e siamo anche delle mine antiguomole, causa e social, causa e social, si fanno il sport, si fanno il reading, tutto questo però secondo me ha il discapito della qualità. Ha il discapito della qualità.